Come è cominciata io non saprei La storia è infinita con te Che senti diventata la mia Che monta questo ristro a Dovelle Dopo 10 anni di lavoro su Genève Per la ristrazione Che vuole montare la mia propria affaire Il ristro di pizzeria di Pesuglio Il primo a Dovelle Il primo a Dovelle Proprio dell'Italia, dalla Toscana a Piemonte, a Osto, uno vaso italiano. Animas ha presentato anche una molto bella occasione, ben placata, e ho aperto Animas, visto che il successo che ha avuto è diventato molto rapido. Vieni via, vieni via con me, entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varie di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Giulio ha portato un'ambiente all'italiano, che come viene a DGN o a Dine, da un mio ristorante, ho l'impressione di entrare in italiano, in Italia. Vi aspettiamo a venire a provare le buone pizze, e le buone pasta al Vesugo del Mas. Grazie mille signori, ciao. E se presenta una bella affera a Siatono, in fase della gare, e c'è un quartier in plana evoluzione, e io voglio acheter questa affera e montare un Vesugo al Siatonovo. che esce dietro un vetro io, che osservavo le nuvole in cielo, aspettavo un segnale o chissà. e poi arrivi tu e scegli me, sorridi e mandi via le nuvole, perché mai niente è impossibile, solo insieme saremo felice. Spero di aver guardato il tuo bianco nel mio ristorante. Arrivederci.